Vi presento con molto piacere l'avvocato Andrea Monti, che sicuramente avrete avuto modo di leggere o di ascoltare in qualche conferenza. Lui è avvocato, ma è anche docente e in particolare ha tenuto presso l'Università di Chieti il corso in diritto dell'ordine della sicurezza pubblica, che oltre alle sue competenze, diciamo, da legale, gli ha consentito anche di avere una competenza scientifica proprio sui temi della sicurezza pubblica. Ha anche scritto dei volumi su questi temi in inglese, insieme al professor Vax. L'ultimo riguardava proprio l'emergenza del Covid-19 e quindi il tema della sicurezza pubblica e della sanità pubblica con il trattamento dei dati personali, coniugato con il trattamento dei dati personali. Quindi credo che sia la persona più qualificata per affrontare il tema che gli è stato assegnato, ovvero sia quello della sorveglianza e controllo nell'ambito della sicurezza pubblica. Ti lascio la parola, Andrea, e grazie di aver accettato l'invito. Sì, anche se non è c'è posto per te. Vabbè, dipende, dai. Dipende da come va a finire. A che c'è la sorpresa? Allora, grazie Pierluigi, grazie soprattutto a voi per la pazienza di ascoltare questo paio d'ore di considerazioni strutturate su un tema che per molto tempo è rimasto nei manuali di diritto costituzionale e del diritto di polizia dove viene studiato abbastanza in basso nelle priorità di studio e di riflessione. Sostanzialmente perché negli ultimi anni la pubblica sicurezza non è stato un tema particolarmente interessante per il giurista che si occupa di diritto costituzionale, di diritto pubblico, di diritto amministrativo e complessivamente di diritto delle tecnologie dell'informazione, fino a quando non è esploso il tema della sorveglianza tecnologica che dirò subito in modo abbastanza grossier è stato equiparato o associato o comunque trattato in relazione alla onnipresente e ubiqua privacy lasciando totalmente o quasi trascurato un tema più strutturale che quello del rapporto fra tecnologia diritto e Stato ed è sostanzialmente quello di cui parleremo oggi. Il professore Perri mi ha già presentato quindi non dirò tanto di più sul mio curriculum se non appunto per evidenziare che negli ultimi tre anni c'è stato un percorso di avvicinamento ai temi del tecnocontrollo che è partito nel 2019 con il libro Protecting Personal Information, è proseguito con Covid-19 e il Public Policy in the Digital Age e da ultimo nel 2021 ho pubblicato National Security in the New World Order. Un altro volume sta per arrivare, si chiama The Digital Rights Delusion ed è il quarto passaggio in una riflessione complessiva del rapporto fra tecnologia diritto, politica e Stato. In passato però come potete vedere mi sono occupato di abbastanza in modo esteso di temi che sono stati fondanti poi per il diritto delle tecnologie e dell'informazione. Professionalmente sono consulente giuridico dell'Associazione Italiana Internet Provider che rappresento anche in seno europeo, collaboro con l'Italy Innocence Project, la società italiana del biodiritto e tuttora, ahimè, sono il presidente della più antica ONG a occuparsi di diritti della comunicazione elettronica interattiva al di fuori degli Stati Uniti. Nascemmo nel 94, poco dopo la Electronic Frontier Foundation italiana. Mi occupo di diritto e geopolitica tecnologica su varie testate, fra le quali Italian Tech, Formiche.net e PC Professionale. Questo per chiudere la parte puramente autopromozionale, se la vogliamo chiamare così, ma che in realtà serve per farvi capire che, insomma, in un modo o nell'altro, sono anche un po' la memoria storica di quello che è successo in Italia su questi temi. Di che cosa, come è strutturato l'intervento di oggi? Partiamo dalle definizioni, perché non soltanto in filosofia, ma soprattutto in diritto, il problema della definizione, quello che Socrate sintetizzava nella domanda TST, è realmente centrale e lo è in modo particolare in questa materia. analizzeremo le fonti per poi capire in che modo le fonti si integrano in una sorta di tassonomia politico-normativa, perché il tema della pubblica sicurezza, della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sicurezza cibernetica, di cui avrete sicuramente sentito parlare almeno dal 2019, se non dal 2018 in poi, sono temi che stanno ridisegnando l'assetto del rapporto fra politica e diritto, portando al giurista la necessità di doversi confrontare non solo e non tanto, così in termini astratti e accademici, che astratti non sono peraltro, ma soprattutto in termini concreti e professionali, con scelte politiche che molto spesso fanno, perdonatemi l'espressione poco elegante, letteralmente a cazzotti con tutto quello che abbiamo studiato nel percorso universitario e che poi abbiamo praticato nell'impostazione di difese civili, penali e amministrative. Il che ci porterà a considerare un fatto poco percepito, ma estremamente rilevante, cioè la diffusione e l'estensività dei controlli tecnologici di pubblica sicurezza, che se non ci trasformano in regimi, diciamo, geograficamente spostati altrove, nemmeno però ci fanno percepire tutta questa libertà che riteniamo di avere. Il che ci porterà all'analisi dei problemi legati alla geopolitica della sorveglianza e infine al ruolo confliggente che c'è fra le necessità del potere politico e la tutela e quelle invece degli interessi economici. Vedremo in modo particolare come le big tech stanno attivamente ridefinendo i contenuti, non solo dei concetti legati alla sicurezza, ma i concetti stessi e fondamentali, di diritti fondamentali. Passatemi il gioco di parole. Passiamo, partiamo quindi, come dicevo, dal tema delle definizioni. Non abbiamo un sistema di definizioni articolato e sufficientemente comprensibile che distingua in modo netto ordine pubblico, pubblica sicurezza, sicurezza nazionale, interessi nazionali ed essenziali, sicurezza cibernetica. Sono tutti termini, sono tutte locuzioni che vengono utilizzate a piene mani dappertutto, dai livelli istituzionali a quelli della comunicazione, al dibattito pubblico, ma che però soffrono di una consistente sfocatura che non consente di sapere esattamente di che cosa stiamo parlando. Per cui di tutti questi concetti si può dire ciò che il Metastasio scriveva sull'araba fenice, e cioè che ci sia, ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa. Il punto è che mentre Metastasio parlava della fede degli amanti e quindi di una questione che tutto sommato riguardava un numero estremamente limitato, tipicamente due di persone, in questo caso l'incertezza definitoria si ribalta, si riflette, dispiega i suoi effetti sulla vita di un'intera collettività e anche nei rapporti fra Stati. Vediamo storicamente quali sono gli utilizzi dei termini di cui stiamo parlando. La parola sicurezza nazionale emerge per la prima volta il secolo scorso, nella nostra epoca più bua, più buia, nel nostro periodo storico più buio, perché il reggio decreto 31-2023 istituisce la milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Il regime fascista identifica la necessità, poi ci sarà il tribunale speciale, comunque non stiamo parlando di questo. Cosa succede quindi durante il periodo fascista? che Mussolini percepisce la necessità di avere un corpo di polizia, che poi non era di polizia, era una milizia, però concettualmente la funzione era quella, che tutelasse lo Stato dall'attivismo politico socialista. La cosa curiosa è che già fornisce uno spunto di riflessione interessante, che se non sbaglio nel 1936 il Public Order Act inglese nasce esattamente con lo stesso scopo, ma per combattere la diffusione dell'attivismo politico fascista. Questo fatto quindi ci dà un primo, questa considerazione puramente fattuale, ci dà un primo spunto per cominciare a domandarci se il tema della sicurezza nazionale non sia un tema trasversale e ideologicamente neutro. Cioè in altri termini, se non ci troviamo di fronte all'enunciazione concreta del tema del Leviatano, e cioè della necessità dello Stato, del potere, di proteggere innanzitutto la propria sopravvivenza, da chiunque metta in discussione la sua autorità, a prescindere dalla natura più o meno democratica del potere stesso. Avvolgiamo velocemente il nastro della storia, arriviamo ai tempi nostri. L'articolo 126 della Costituzione attribuisce il potere al Presidente della Repubblica di sciogliere i consigli regionali e rimuovere i presidenti dell'Aggiunta per ragioni di sicurezza nazionale. Quali siano queste ragioni di sicurezza nazionale e quindi che cosa sia la sicurezza nazionale non è detto in modo chiaro. Si può dedurre dalla lettura della norma che il potere di rimuovere il Presidente della Giunta e sciogliere il Consiglio regionale facciano riferimento a tentativi separatisti e quindi di rompere l'unità della Repubblica. Ricorderete che il decentramento, l'attribuzione del testo unico degli enti locali, insomma tutta la problematica legata alla destatalizzazione del nostro Paese furono precedute, accompagnate e anche seguite da pulsioni politiche inizialmente separatiste, poi federaliste, insomma questa norma è una norma di protezione che dice va bene vi abbiamo dato il decentramento ma attenzione se superate un certo limite, se vi arrogate dei poteri che non vi spettano c'è sempre la possibilità di non di mettere in discussione il sistema decentrato, quindi il rapporto strutturale stato-regioni ma di rimuovere anche non necessariamente in modo gentile il faccino rosso, se li vogliamo chiamare così. E attenzione perché quello che abbiamo vissuto in questi ultimi due anni di pandemia ci è andato molto vicino che poi per una serie di ragioni analizzate appunto nel libro Covid-19 and Public Policy in the Digital Age, non solo il nostro governo ma in generale anche altri esecutivi, abbiano fatto scelte non immediatamente afflittive dal punto di vista dell'esercizio del loro potere e un altro paio di manche. Però quando sarà possibile parlare di questi argomenti senza la tensione che caratterizza questo periodo, forse si potrà concludere che non tutto è stato fatto esattamente nel rispetto della gerarchia delle fonti e dei poteri.